buongiorno a tutti ragazzoli benvenuti in questo nuovo velocissimo video sono qui per aiutarvi nella sfida che dice blocca il danno con una granata esca allora ragazzi è un po' contorta questa sfida ma è semplice semplice basterà utilizzare queste bellissime granate esca che troverete principalmente dove ci sono diciamo i rifugi i rifugi segreti diciamo ok ragazzi e nelle zone nuove della mappa quindi pozzo squalo yacht via dicendo per completare la sfida basterà semplicemente fare utilizzare così le granate clone ragazzi quando c'è un avversario nei paraggi perché il vostro clone dovrà semplicemente subire 100 di danno ragazzoli quindi ve la consiglio di fare e se avete fortuna potrete trovare le granate clone anche nei drop cacciate di cattivea le granate clone in mezzo alle in mezzo alla mischia ragazzoli se avete pure lo spara vende vi consiglio di curarle se prendono i danni li potete curare e tutto fatemi sapere come come va se siete riusciti a farli io ho già caricato sul video vedete con la skin del miascolo già sul canale il video per come ottenere i due stili della skin mi raccomando andateci a dare un'occhiata ci sono anche tutte le altre sfide di questa settimana e non solo noi ci vediamo nel prossimo video mi raccomando ci vediamo anche in live su twitch per i regali dello shop codice creato loloduke97 per supportarmi e buona continuazione a tutti ciao ciao ciao